Cinesi di merda! Smith! Smith ci ha un problema! Roger, minchia rubuitella, ma che succede? L'agenza è stanca, ci sta attaccando! Attaccando? E perché? È stanca di vedere giochi di guerra sul console! E che minchia? Che facciamo noi? Presto, veloce, chiama Burry! Sa, 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 pure, sa, 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 sa! Sapore di sale, so, 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 so! Pronto? Chi minchia è che mi interrombe mentre sto componendo? Pronto, signor Burry, sono Roger importantissimo! Ah! La prego, devi intervenire, ne vado al bene di tutti! Ah, mi serve il mio aiuto, eh! Ok! Sa! Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna CX Murray E benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui su un nuovo episodio del Eppero! Abbastanza gay è uscito, vabbè Oggi andremo a vedere un nuovo appunto gioco Che moltissimi di voi mi hanno Non è vero, nessuno di voi mi ha consigliato Ma che mi ha consigliato Sempre il mio amicozzo Che ovviamente è anche il possessore del telefono Che ovviamente salutiamo Ciao, grazie per il telefono Sei il mio schiavo Comunque Ragazzi, perché sto giocando questo gioco Che è Major Mayhem 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 Major Mayhem Su questo Su questo telefono Perché appunto Questo gioco Ha una grafica abbastanza Cazzutella Per essere un gioco per 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 cellulare E poiché appunto Intanto andiamo a fare Andiamo a vedere appunto Diciamo questa interfaccia principale Avendo una grafica abbastanza buona Eeeh Il La mia idea era appunto Di farvelo vedere su un telefono Che avesse una risoluzione Dello schermo A 720p Andiamo a vedere intanto Il Il briefing Io ho fatto sostanzialmente Il briefing è la prima missione Ma andremo a vedere insieme E Dopo vi spiegherò Il perché Sì Sostanzialmente Il presidente Ci ha appena detto Ehm Lol Ci hanno vottuto la ragazza Eh no vabbè Per la figa Quest'altro No comunque raga Il presidente ci ha appena detto Ci ha appena informato Allegramente Che dovremmo andare ai tropici Per Sconfiggere l'esercito di ninja Che Eeeh Ecco qui Il gioco Sostanzialmente si sviluppa così Eeeh E a coperture Eeeh Niente Probabilmente usciranno appunto Questi ninja E noi dovremmo Eeeh Allegramente Killarli Senza Una minima pietà Eeeh Vi stavo dicendo Appunto il presidente ci ha appena detto Che Eeeh I ninja vogliono appunto Sgubarci Il paese E soprattutto Ci hanno vottuto la ragazza Questa è una cosa Imperdonabile ragazzi Non nessuno ci può fregare la ragazza Cioè proprio diciamolo Comunque il gioco si sviluppa Come potete vedere In Eeeh In base appunto Delle coperture Eeeh E nulla E' una grandissima Figata Proprio perché Eeeh Sviluppatosi su queste coperture Vi da Eeeh A cazzo Concentrarevi sui nemici stessi Porca puttana Questo ci sta inculando Eeeh La cosa divertentissima di questo videogioco E che è molto 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 Personalizzabile Un po' come tutti i videogiochi che Vi propongo Eeeh In questa rubrica Eeeh Eeeh Appunto Più si va avanti Più questo gioco Potete vedere Come potete vedere Ovviamente non potete sparare insieme O io ci ho provato Ma non è possibile Qui in basso avete dei potenziamenti Potete vedere Qui per esempio avete Don't shoot Ecco ehm Ma non meno che dentro avanti si andranno sbloccando varie cose Per esempio qui ci sono I civili che non dovete ovviamente uccidere Se no Eeeh Vi si inculano Ogni colpo che prenderete Sarà un Una riduzione del vostro Del Ah cazzo Una riduzione del vostro Della vostra armatura Che però potete recuperare Eeeh Trovando appunto I I bonus Per Eeeh Per la mappa Ok Direi che Mi sa che ci siamo Sì esatto La prima missione è stata completata Qui ovviamente a ogni fine missione vi darà un Un punteggio Qua abbiamo fatto abbastanza schifo Ci ha dato una medaglia e mezzo Quasi Eeeh Manco troppo Però Eeeh Appunto abbiamo delle Delle missioni che ci faranno Eeeh Ci faranno salire di livello Ragazzi a me questo gioco Intrippo un bordello Fatemi sapere un po' cosa ne pensate Perché secondo me Questi giochi meritano davvero Una grande attenzione Perché sono appunto dei videogiochi Gratuiti Soprattutto Eeeh Ma che secondo me Hanno un grandissimo potenziale Eeeh Vi preannuncio subito Che Eeeh Di questo videogioco Farò Due video perlomeno Perlomeno due video Perché uno lo state vedendo ora Eeeh Il prossimo non so quando Ma ve lo caricherò Sicuramente Eeeh Se riesco ve lo carico Il giorno dopo Però non ne sono sicuro Ah cazzo Anche dipende la La mia organizzazione Perché come saprete Mentre state vedendo questo video Io non sono A casa Eeeh Oddio Là c'era un Ah piano cazzo Ok Però Eeeh Proprio perché Eeeh Questi giochi Questo gioco veramente Merita un sacco Volevo farvelo vedere Ah l'armatura Prendila ok Eeeh Volevo farvelo vedere Un po' più nel dettaglio Eeeh Ho visto anche appunto Dalle Dal mio compagno Mentre giocava Eeeh Che Eeeh Pilla Oh merda 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 Siamo morti Siamo morti Eeeh Se noi appunto Paghiamo 500 Ecco infatti Non abbiamo i knife coins Quindi dobbiamo riprovare La missione Però appunto Se Eeeh Avessimo avuto Abbastanza soldi Eeeh Avremmo potuto Riniziare tranquillamente La missione Senza Eeeh Continuare la missione Da dove eravamo morti Senza appunto Riniziarla da capo Dobbiamo stare abbastanza attenti Raga perché questi ninja Sono bastardi E infami Sono del cazzo Di un palumpa ninja Eeeh Comunque ragazzi Eeeh Se voi appunto volete Il secondo episodio Di questo gioco Domani Lasciatemi un bel Eeeh Un bel mi piace Così io riesco a capire Se caricarvelo Se pubblicarvelo Eeeh Domani Cazzo Smettetela Che sto parlando In proprio Cioè insulsi Se farvelo avere domani Oppure Eeeh Un altro giorno Allora Qui un attimo di concentrazione Ragazzi Perché fin quando sono I Eeeh Gli shuriken Ok armatura Bella Fin quando sono gli shuriken Blu Eeeh Pochi cazzi Ma appena ci lanciano gli shuriken Cazzo Gli shuriken rossi E' un po' più un problema Ok dai dai Ci siamo Ci siamo ragazzi Ci siamo Abbiamo capito veramente Tuttissimo da questo gioco Bene Ok Bene 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 Grandissimo Grandissimo ragazzi Ok stiamo passando Al prossimo stage Oh Tap the button on the screen We don't have to jump Ok Olè Ok perfetto Dai uscite Bom 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 Mamma mia Una gran figata Porca vacca E' una gran E ragazzi E ragazzi Vi faccio vedere che A breve Eeeh Vi farò vedere un gioco Che è veramente Assurdo Ah Porca puttana E' arrivato un siluro Ragazzi Veramente un gioco Assurdo ragazzi E' qualcosa di indescrivibile Vi giuro Che mi avete sempre consigliato voi Ragazzi Cioè siete dei cazzo di miti Cioè questo canale lo stiamo veramente costruendo insieme E' bellissimo sta cosa appunto Voi mi consigliate Anche che giochi fare Sembra un contributo da niente Ma ragazzi E' un grandissimo aiuto Ah Porca puttana Ok Ok questo Oh La devi smettere Oh perfetto Ok ragazzi Siamo un po' nella merda Perché Oh grandissimi Abbiamo fatto anche quest'altro stage Bene bene Oh due stelle Oh porca vacca Ci siamo Già ci cominciamo a capire Allora vi faccio vedere un'altra cosa molto carina E caratteristica Cioè vabbè Caratteristica non tanto Visto che Boom Oh grande Ok 100 coins E' un'altra cosa molto divertente di questo gioco Siamo a livello 5 mi pare Comunque andiamo in menu E vi faccio vedere anche la personalizzazione delle armi Che avete qui nel menu Armory Weapons E abbiamo noi 449 dollari Non possiamo comprare proprio un cazzo E Come potete vedere le armi cazzuta costano davvero un bordello 750 perlomeno Però Se andate in close Potete comprare appunto le varie cazzate Per esempio qua avete il Desert Helmet Blue Digital Chemo Dammi che figa da Blue Digital Chemo Pink Art io non lo prenderei proprio Abbastanza gay Però Ragazzi se ve lo volete Fatevelo sapere che Nel prossimo video appunto Ve lo faccio avere senza problemi Andiamo avanti ragazzi Facciamo la terza missione E Terza ed ultima missione per Per sto giro E Però appunto Nel prossimo video Vi andrò a far vedere Una parte abbastanza avanzata del gioco Cazzo qua ragazzi è Qua diventa abbastanza difficile Quindi Un attimo Se magari non mi rispondo subito Ma appunto sono abbastanza concentrato sul gameplay Cioè se non vi rispondo Che cazzo di Eh la madonna Cioè ci ha arato proprio Eh no vabbè Game over Tanto l'abbiamo appena iniziata L'unica cosa brutta di sto cazzo di telefono È che scalda un bordello la batteria Però per il resto È veramente un piacere Per gli occhi Ok Bom 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 Bene La cosa La cosa divertente E soprattutto difficile È riuscire a capire Qual è il momento di stare in copertura E qual è il momento di uscire Perché Se voi sparate E andate automaticamente fuori copertura Quindi Eh sì vabbè Infliggerete danni Ma vi arriveranno anche gli shuriken Dei Eh Dei nemici Io ammazzo i polli Ah Cazzo Questa era pesantissima ragazzi Questa era veramente pesante Ok Bella Ok bene 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 Dai ci siamo Ci siamo ragazzi Ci siamo Dammi l'armor Benissimo Eh attenzione qui Attenzione qui Che qua stanno uscendo tutti dalle Cazzo Mamma mia è un bordello ragazzi È veramente difficile riuscire a mantenere le coperture Vaffanculo bastardo Ok ragazzi Ok No L'ho sfiorato L'ho sfiorato raga L'ho preso Mamma mia Che bomba che sono Ok Prendiamoci un po' di armatura È una gran È una È assurdo ragazzi Cioè davvero Ci tengo davverissimo A questo Davverissimo Non si può sentire Ok Liscio Ci tengo davvero che Voi mi lasciate un vostro parere su questo gioco E soprattutto Che mi lasciate un bel mi piace ragazzi Eh Facetemi vedere che comunque Come sempre Per questa serie Voi ci siete Ragazzi Ci stiamo avvicinando alla fine di questo livello Ammazziamo anche i polli Non ce n'è per nessuno E stiamo facendo un grandissimo lavoro Bella Ottimo Bene 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 Cazzo mi sto gasando ragazzi Mi sto gasando a bomba Ok Chain kill Ah Porca puttana Porca puttana ragazzi Qua L'abbiamo sentito Anche troppo Bellissimo Benissimo ragazzi Benissimo Stiamo andando veramente Ottimamente Action Ok Adesso sovrapposite qua Uh Porca puttana Ok Guarda che questo non muore Oh l'abbiamo preso in testa Attenzione Bello Bello Grandissimo Attenzione Attenzione a quando arrivano Quale botte Armor Buono 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 Stiamo andando veramente alla grande Ragazzi Stiamo facendo un ottimo lavoro Grandissimi proprio Vai 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 Oh cazzo 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 Eh grand Guardate Cioè Che ve lo dico a fare Che ve lo dico a fare Guardate che cazzo di riprese Benissimo ragazzi Qua mi sa che abbiamo preso Eh una stella e mezza Ma che cazzo è Mi aspettavo molto di più Ok ragazzi Missione completata Alla grande io direi Ehm Promotion Uh Zack Hunter Ovviamente Cacciatore di Anatre Grandissimo Tre Tre continua Adesso non dobbiamo nemmeno pagare Per i prossimi livelli Ragazzi Grandissimo episodio Io vi ringrazio Moltissimo Per tutto il supporto Che mi state dando Eh in questa rubrica Se volete appunto Il prossimo episodio Se volete che il prossimo episodio Venga pubblicato Direttamente domani Lasciatemi un bel mi piace Riusciamo ad arrivare Almeno a 2500 mi piace Prima eh di sera Eh E domani appunto Vi carico questo grandissimo episodio Detto questo ragazzi Io vi ringrazio moltissimo Per il supporto Vi ringrazio anche Di aver guardato questo video Appena alla fine Lasciate un bel mi piace Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ciao